Dopo la Final Four femminile, tenutasi il 6 e 7 gennaio a Varazze, adesso è la volta di quella maschile che sarà il 2021 sempre nella cittadina riverasca. Sì, il Priamara ha vinto la competizione femminile, adesso vedremo chi tra Dolceacqua, Ospedaletti, Santa Maria e Athletic sarà il vincitore di questa prima competizione di Final Four di Coppa Italia per quel che riguarda il calcio a 5. Prossimamente è possibile vedere anche una manifestazione di carattere nazionale, in conferenza stampa almeno è stato detto così. La Liguria ha dato la propria candidatura alla divisione calcio a 5 per poter ospitare la Final Eight nazionale della categoria allievi e giovanissimi, siamo in attesa di una risposta, speriamo che le cose vadano bene e possiamo quindi organizzarla sempre in città qui a Varazze a questa competizione che è molto importante per il settore giovanile del calcio a 5. Varazze che potrebbe diventare quindi la capitale del calcio a 5. Beh, diciamo che se non altro in questa fase Varazze, grazie all'assessore allo sport, ha contribuito a dare una mano alla federazione per poter organizzare degli eventi nuovi e importanti per il calcio a 5. Grazie. 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 Grazie.